Un momento importante per il gruppo fanese del Movimento 5 Stelle. Dopo le sue dimissioni presentate tramite una lettera aperta al sindaco, Marta Ruggeri, ora in regione, ha lasciato dallo scorso 2 ottobre un posto vuoto nel Consiglio Comunale tra le fila dei 5 Stelle. Dopo sei anni in cui aveva ricoperto il ruolo di consigliera, la Ruggeri passa l'incarico a Matteo Giuliani, quarto dei non eletti. Gli altri, dice Tommaso Mazzanti, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Fano, hanno rinunciato al ruolo per motivi personali, dimostrando grande serietà e responsabilità. Sono comunque particolarmente contenta che il mio posto sarà preso dall'avvocato Matteo Giuliani. Se vi ricordate, un anno e mezzo fa, quando sono stata candidata sindaca per le elezioni amministrative di Fano, avevo indicato proprio Matteo come assessore al bilancio ed è in quell'ambilotto che continuerà a portare il suo impegno. Sono sicura che farà un ottimo lavoro in Commissione Bilancio e sarà anche membro della Commissione Garanzie e Controllo. Penso in particolare al tema della tassazione. Abbiamo in questi giorni tutti seguito la vicenda della Tari. Avevamo proposto già fin dal nostro programma una riduzione dell'imposizione fiscale delle tasse comunali, delle tariffe per tutte le nuove attività produttive. In questo momento, dopo la crisi del Covid, bisognerà ancora di più aiutare le nuove aziende per cercare di tutti insieme di superare le difficoltà. Quindi un primo impegno certamente sarà su questo. Avvocato e Presidente dell'Associazione Bene Comune, Giuliani andrà a completare il trio dei 5 Stelle nel Consiglio Comunale. Saremo come i tre moschettieri, affermano scherzosamente Francesco Panaroni e Tommaso Mazzanti. Siamo rimasti solamente in tre uomini in Consiglio Comunale, ma daremo battaglia sicuramente. Ma nel nostro gruppo comunque ci sono tante altre donne e potremo sempre contare sull'aiuto di Marta Ruggeri in Consiglio regionale e di Rossella Accotto in Parlamento. Per cui anche se siamo rimasti tre uomini a Fano, daremo dei fili da torcere sicuramente. Dopo la grande soddisfazione per l'elezione di Marta Ruggeri in Consiglio regionale, noi consiglieri, io insieme a Francesco Panaroni, insieme a Matteo Giuliani, ci ritroviamo privi di un punto di riferimento molto importante. Tuttavia in questo anno di Consiglio insieme abbiamo imparato tanto, tanto altro ancora ovviamente avremo da imparare, ma sarà veramente un piacere raccogliere questa sfida ancora al servizio dei cittadini. Avremo al nostro fianco appunto Matteo Giuliani, un avvocato, un professionista stimato, presidente dell'Associazione Bene Comune. Quindi con Bene Comune un rapporto di collaborazione e sinergia che è in piedi ormai da più di dieci anni, dal 2009, e che continuerà con questo inserimento in Consiglio Comunale in maniera ancora più rafforzata ancora per altri almeno quattro anni. Grazie. Grazie. Grazie.